Parliamo adesso di uno dei temi politici che hanno maggiore pubblicità nel senso della la sorpresa che c'è stata dal risultato elettorale dagli italiani all'estero. Una sorpresa senz'altro per la destra, una amara sorpresa perché loro da sempre pensarono che queste persone avrebbero votato per la lista Trembandia, il quale si presentava dappertutto come quello che era riuscito a ottenere il voto per queste persone. Amara la sorpresa perché da diversi anni le forze del centro-sinistra, le forze dei patronati, l'associazionismo degli italiani all'estero avevano lavorato per la ricerca che queste persone fossero dei veri cittadini, non cittadini di serie B, non persone alle quali si concedeva il diritto al voto solo per una manovra elettorale. Loro si sentono italiani chiedono di entrare nel sistema Italia, cercano il modo di imparare la lingua italiana perché purtroppo molti di loro non la conoscono, perché i loro genitori non hanno avuto la possibilità di insegnarvi. In questo senso credo che il grave errore fatto da diverse parti era quello di pensare ai cittadini italiani all'estero come persone che avessero dimenticato il motivo per cui sono dovuto andare via dell'Italia, sono dovuto andare via dell'Italia perché in Italia purtroppo in quegli anni non c'era un sviluppo economico e loro sanno bene di chi sono stati le responsabilità da allora e di adesso. Cercarono con questo voto di chiedere una maggiore attenzione ma soprattutto di lavorare insieme per una migliore Italia. Il risultato ha a che fare senza altro con le proposte che sono venute e fatte verso questo elettorato. Da parte del centrodestra della lista di Tremaglia c'era una proposta che possiamo chiamare di nostalgia. Era parlare all'Italia che ci fu, parlare all'Italia di 40-50 anni fa. Personalmente visitai diverse comunità di italiani all'estero e all'America Latina e c'era proprio un spaccato nelle riunioni. Da una parte i più anziani che parlavano dell'Italia che loro avevano lasciato, un'Italia che effettivamente era piena di ricordi e anche dei dolori per lo sradicamento e da un'altra le generazioni più giovani che si attendevano da parte dei politici, una proposta per integrarli nel sistema Italia, per far sì che loro potessero entrare direttamente a intervenire nell'Italia di oggi. Questo credo che sia stato l'errore pure di pensare che questi parlamentari verranno al Parlamento italiano a parlare solo della situazione delle loro comunità. Da parte del centro-sinistra i candidati sono stati scelti tra persone che da sempre hanno lavorato per il miglioramento della situazione degli italiani all'estero, ma in un percorso in cui sempre loro hanno conosciuto quale tipo di politica italiana svolgere. Sono persone preparate, non sono stati scelti tra artisti, tra quelli uomini di spettacolo, i cui ogni tanto fanno un giro per le comunità presentando le loro canzoni, tutte cose giuste da farsi, ma persone che non erano in grado di proporre assolutamente nulla per i cittadini italiani all'estero. Credo che questo sia stato il successo dell'Unione, di presentare persone che hanno lavorato da sempre, ma non solo se sono fermati a un lavoro di sostegno nell'associazionismo. Hanno fatto delle proposte, tra cui l'insegnamento della cultura italiana, la richiesta di far sì che sia più facile ottenere la cittadinanza per le persone che trovano tante volte difficoltà nei consolati per riuscire a avere i propri documenti. Credo che sia questo il motivo di successo da parte dell'Unione e sia questa la sorpresa, la sorpresa per chi non conosceva assolutamente quello che succedeva ai cittadini italiani che vivono nelle diverse parti del mondo. Visitando le comunità italiane all'estero ho sempre sentito da parte di loro anche preoccupazione per le notizie che le arrivano attraverso dell'estampa in due versanti. In primo luogo la figura del premier Berlusconi era qualcosa che a molti di loro effettivamente faceva sì arrossire perché si continuava a vedere da parte dell'estampa internazionale un presidente del Consiglio di Operetta, la figura dell'italiano sempre quasi irresponsabile che è qualcosa che certamente non aiutava per nulla alle persone che vivono all'estero. Credo che la risposta dell'estampa internazionale, dell'estampa europea, in Europa oggi si trovano migliaia di giovani italiani che sono ricercatori universitari, che sono dovuti andare via dell'Italia perché purtroppo non trovarono in questi ultimi anni la possibilità di poter si sviluppare in un percorso professionale. Questi giovani, più tutti gli italiani che vivono in Europa, che hanno visto e qualche volta sono stati anche vittime di scherzi per il loro presidente del Consiglio che era Silvio Berlusconi, questo ha fatto che ci fosse un voto per cercare un'Italia più unita all'Europa. Da parte di loro anche devo dire che è sempre venuta anche una grande preoccupazione per la politica che il governo di Berlusconi, la legge Bossi Fini, aveva in confronto con chi oggi vive in Italia come immigrato. Di parte di loro devo dire che effettivamente sempre mi ha sorpreso in termini positivi che c'era anche una grande preoccupazione per dire noi non vogliamo che persone che oggi si trovano in Italia e che sono stati costretti a fare un percorso simile a quello che abbiamo fatto noi quando siamo usciti dalle nostre terre possano essere vittime di discriminazione, possano trovarsi in situazioni che i loro figli nella nostra Italia, perché loro sono sempre molto legati all'Italia, vivano una discriminazione che per noi è stato sempre un elemento di evitare non solo agli italiani all'estero ma a tutte le persone che si trovano a vivere una situazione di esradicamento e di migrazione. Io vorrei finire pensando che questo voto abbia messo in luce soprattutto quello che si riferisce alla parola e al significato, al concetto di integrazione. Credo che tutte le forze del centro-sinistra ma tutti gli italiani dobbiamo sforzarci per unire e integrare le due Italie, le Italie fatte di cittadini italiani che vivono all'estero e che sono riusciti a inviarci i loro parlamentari ma c'è anche un'altra Italia che arricchisce quotidianamente la vita di questo Paese che è l'Italia fatta di persone che sono arrivati da altre parti del mondo, che lavorano, che portano i loro figli a scuola, che dovrebbero almeno avere il diritto a esprimersi politicamente così come giustamente lo hanno fatto gli italiani che vivono all'estero, queste persone che pagano in Italia le tasse che vivono qui da più di 5-10 anni si possano esprimere almeno per eleggere i loro rappresentanti nei consigli comunali, nei consigli dei quartieri. Credo che questo sia il grande segnale che ci inviano gli italiani all'estero, il chiaro segnale e la richiesta di unire e di integrare gli italiani all'estero e quelli che diventeranno italiani nel futuro ma che a tutti gli effetti oggi vivono e arricchiscono queste nostre città con il loro lavoro, con la loro cultura, con il loro impegno perché ci sono delle persone purtroppo che provengono dall'estero che creano difficoltà ma sono molti di più quelli che contribuiscono a migliorare il futuro dell'Italia. In questo senso mi ricordo sempre un detto, un proverbio del mio paese di origine, il Cile, nel quale si dice sempre che se un'ape ti fa male, ti fa dolore, questo purtroppo è vero, ma ricordiamoci che ci sono migliaia di api che fanno quotidianamente il miele. credo che questo deve essere il messaggio, io sono certo che lo possiamo fare tutti insieme.